Commer Industries è stata una delle prime aziende a livello nazionale che ha inserito nei propri plant di machining un servizio di tool management, potendo tracciare e monitorare tutti i costi. L'operatore si logga all'interno del software mediante le impronte digitali. Ogni operatore ha determinati limiti di accessibilità alla macchina, andrà a sparare sul barcode e la macchina stessa andrà ad aprire solo il cassetto e il vano dove si troverà quel materiale in quella quantità che lui ha specificato. L'operatore deve rendere tutte le volte quello che è il materiale usato o rottame. Noi quotidianamente riceviamo un file dal sistema, settimanalmente c'è un team di lavoro che si incontra per analizzare questi grafici. I risultati dei primi 12 mesi sono stati veramente molto buoni, siamo riusciti ad abbassare di circa il 10% il fatturato di utensili e materiali di consumo acquistati nei 12 mesi a parità di ore sviluppate rispetto all'anno precedente. In Comer Industries crediamo fortemente che la tecnologia possa costituire un fattore abilitante, ma che a fare la differenza sia sempre l'individuo. Lavorare in una smart factory significa essere in grado di gestire, analizzare e soprattutto interpretare i dati. È per questo che siamo alla costante ricerca di giovani talenti predisposti all'innovazione, in grado di sviluppare soluzioni digitali e di supportare i progetti di trasformazione. Le soft skills sono fondamentali per intraprendere questo percorso. La capacità di comunicare in un contesto globale, la leadership e l'orientamento ai risultati rappresenteranno quel mix di competenze che permetteranno all'individuo di usare la tecnologia anziché che subirla.